Durante le attività di scavo in via Don Blasco, la ditta che è impegnata nei lavori di realizzazione della strada che collegherà lo svincolo di gatti del mondo Norimberga, si è imbattuta in un ordigno bellico di 500 libre. La bomba è stata letteralmente sollevata da una pala meccanica e adagiata insieme a del terriccio al bordo della strada. Per fortuna non è esplosa, non si conoscono gli effetti deflagratori dell'ordigno bellico che adesso dovrà essere fatto brillare. Per questo motivo i lavori al momento sono stati interotti e in giornata un tavolo tecnico in prefettura deciderà il da farsi. Ne abbiamo parlato con l'assessore alla protezione Massimo Minutoli che già in occasione di un simile episodio lo scorso aprile ha presenziato le operazioni. Unica differenza è che ad aprile l'ordigno si trovava semisommerso nelle acque dello stretto, questa volta invece in piena terra. Sarà necessario fare evacuare gran parte ai residenti che si trovano in un'area di 500 metri rispetto a dove è stato trovato l'ordigno. Una volta effettuato il sopralluogo congiunto, che faremo presumibilmente oggi nelle prime ore del pomeriggio, stabiliremo quali saranno gli interventi da attuare. Quindi successivamente verrà fatto sicuramente un tavolo tecnico in prefettura dove con tutti gli organi interessati stabiliremo le modalità di intervento come già sperimentato e fatto in precedenza.